Abbiamo deciso insieme a tutti i colleghi degli altri ospedali e del territorio della provincia di Modena di organizzare questo Open Day perché ci siamo resi conto che le gravide, ahimè, hanno una discreta ritrosia a vaccinarsi e questo poi si è esplicare il fatto che quando vengono colpite dall'infezione purtroppo abbiamo anche dei casi molto gravi abbiamo dei casi molto gravi di donne che vanno in rianimazione, non riescono più a respirare e se non respirano il loro bambino non respira e quindi per salvare mamma e bambino siamo costretti a far nascere, a interrompere quindi la gravidanza in una qualsiasi epoca è successo in donne a 26 settimane così come in donne a 32 settimane anzi alcuni mesi fa, un mese fa o due, insieme ai colleghi nonatologi eravamo tutti contenti che eravamo riusciti ad una gravida che aveva subito questo trattamento a appunto portare a casa sia la mamma ma soprattutto anche il bambino in buone condizioni ecco, recentemente abbiamo dovuto intervenire anche a epoche molto più precoci della gravidanza e quindi i bambini e le mamme se la sono cavata ma certamente i bambini soprattutto hanno delle conseguenze legate alla estrema prematurità